C'erano due fratelli che avevano due cavalli, ma se li confondevano sempre. Un giorno uno diceva, quando gli taglio la criniera così, ma il giorno dopo anche il fratello aveva tagliato la criniera. Il giorno dopo gli diceva, ma cosa faccio, gli faccio un marchio a fuoco sulla chiappa? Il giorno dopo anche il fratello aveva tagliato la coda, ma il giorno dopo anche il fratello aveva tagliato la coda. A questo punto chiamano il fratello e fa, senti facciamo una cosa, tu tieni quello bianco, io tengo quello nero e non se ne parla più. Grazie a tutti.